Continuo nei nostri video nei quali vi parliamo dei prodotti che ci sono piaciuti di più in questo lunghissimo 2021 video focalizzati azienda per azienda, video nei quali inseriamo prodotti che tra l'altro potete acquistare anche in sconto per tutto il periodo del Black Friday, anzi in alcuni casi anche un pochino oltre. In basso vi dico già che vi lascio tutti i link con i coupon in mani tale che possiate subito soffrire degli sconti ma oggi si parla di Tineco, un'azienda che a me è piaciuta moltissimo nel corso del 2021 e mi è piaciuta soprattutto per i suoi Floor One, le sue scope elettriche in grado di lavare veramente il pavimento, quelle scope elettriche che funzionano anche ad acqua con le quali l'azienda ha dimostrato di saper risolvere tanti problemi, tante limitazioni che inizialmente colpivano questa tipologia di dispositivo. Ha anche presentato un aspirapolvere ciclonico senza fini di ottima qualità a tutti i prodotti che si connettano al wifi, quindi possono essere gestiti tramite un'applicazione alcune dei quali si interfacciano anche con Alexa. Insomma, di cose da dire ne abbiamo tantissime, quindi bando alle trance, iniziamo! Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è la Tineco Floor One S3 che potrebbe anche essere considerata come un'apripista per gli aspirapolveri lavapavimenti, che funzionano ad acqua, allora è perché si tratta di uno dei primi modelli che abbiamo recensito in grado non solo di aspirare allo sporco ma anche di lavare davvero i pavimenti. Il suo design allora era piuttosto nuovo, con un corpo piuttosto grande, due serbatoi per l'acqua e un ampio display posizionato nella zona superiore. La costruzione è realizzata in plastica rigida e di ottima fattura, pesa circa 4 kg, però non fatevi spaventare perché in questa tipologia di dispositivi è sempre presente un manico ergonomico e poi la spazzola ha un ottimo grip con il pavimento, insomma utilizzarli è molto semplice. Data la sua natura, data l'utilizzo dell'acqua, questo prodotto è certificato IPX4 e integra un'altra funzionalità che io trovo veramente eccezionale, cioè l'autopulizia. Come funziona? Una volta terminato il lavaggio del pavimento si posizionerà la scopa elettrica sulla sua base di ricarica, che è una piantana da chiaramente appoggiare al pavimento, si muoverà un tastino e il sistema andrà a pulire sia il rullo della spazzola meccanica che tutto il meccanismo di aspirazione. È una cosa comodissima che sinceramente mi fa preferire questa tipologia di dispositivi rispetto ai tradizionali aspirapolveri ciclonici. Il tutto poi viene gestito anche dall'applicazione di Tineco, è sempre la stessa, quindi vi parlerò una sola volta. Un'applicazione che si connetta alla scopa elettrica grazie all'integrazione del wifi proprio nel dispositivo con la quale sarà possibile controllare lo stato della carica, lo stato di usura di tutti i componenti e attivare anche la pulizia automatica della scopa elettrica. In questo modello i serbatoi dell'acqua sono due, quello dell'acqua pulita da 600 ml e quello dell'acqua sporca da 500 ml e la batteria integrata in grado di garantire circa 35 minuti di utilizzo nella modalità automatica. In questa modalità il sensore i-loop rileverà la quantità di sporco presente sulla superficie e adatterà la potenza di aspirazione e anche la quantità di acqua da distribuire sul pavimento. Chiaramente poi c'è anche una modalità max che è più potente. Il prezzo della Tineco 4 One S3 è di 409€ su Amazon, ma tramite il link che trovate in descrizione la potete acquistare in offerta fino al 28 novembre al prezzo scontato di 279,30€. Passiamo adesso al Tineco Pure One S12, l'avete capito dal nome, non è una scopa elettrica che funziona ad acqua ma è un ottimo asperapolvere ciclonico, un asperapolvere ciclonico che ci è piaciuto proprio per le sue funzionalità smart. Ed è un modello molto particolare non solo perché integra nella confezione tantissimi accessori ma perché potremmo dire che si tratta del primo asperapolvere ciclonico di tipo smart proprio perché integra il wifi e può essere anche controllato da Alexa tramite una skill da installare nell'assistente digitale. Con una confezione piena zeppa di accessori il suo design è veramente moderno e continua ad essere caratterizzato dalla tipica impugnatura a pistola studiata in modo tale da risultare molto comoda rispetto ad altri prodotti competitor e che facilita tantissimo l'utilizzo con una mano. C'è poi un'altra caratteristica che rende la Pure One S12 unica nel suo genere mentre alcuni asperapolveri ciclonici hanno un display piuttosto piccolo questo modello ha un display enorme che domina tutta la parte superiore del corpo principale. Ad animare la Pure One S12 c'è un motore brushless da 500 Watt in grado di garantire una potenza di aspirazione di ben 145 Watt cambia però la gestione della modalità di aspirazione che invece di essere gestita in base ai soliti 3 preset si può modificare utilizzando la superficie touch e con questa superficie touch diciamo si possono scegliere più livelli di potenza e quindi non solo i tipici 3. Chiaramente anche in questo caso a mio avviso è sempre meglio utilizzare questo prodotto utilizzando la modalità auto perché anche questo aspirapolvere ciclonico è dotato dei sensori i-loop che riescono a capire la quantità di sporchi ad adattare la potenza di aspirazione in questo modo non solo si avrà una pulizia ottimale ma la batteria durerà un pochino di più. Anche in questo caso tutto può essere gestito tramite l'applicazione di Tineco mentre per quanto riguarda la batteria c'è un unico pacco batteria è in grado di garantire una durata massima, un'autonomia massima di circa 50 minuti. Il prezzo del Tineco Plus One S12 è di 459€ su Amazon ma sempre fino al 28 novembre, sempre tramite il link che trovate in descrizione lo avete ad acquistare a prezzo scontato di 321,30€. E ora si parla del prodotto che a me piace di più di Tineco un prodotto che è uscito da pochissimo, che abbiamo recensito sul canale da pochissimo tempo è la Tineco Floor One S5, secondo me il miglior esponente della categoria delle scope elettriche che funzionano ad acqua perché con questo prodotto quelli di Tineco hanno risolto tanti problemi. Uno su tutti è proprio quello relativo alla dimensione dei serbatochi dell'acqua. Il design continua ad essere quello tipico di questa tipologia di dispositivi anche se nell'S5 sono presenti due contenitori che sono stati posizionati diversamente quello per l'acqua sporca è sempre anteriore e quello per l'acqua pulita invece ma montato posteriormente ed è proprio questo nuovo posizionamento che ha reso possibile all'azienda l'aumento proprio delle dimensioni dei contenitori perché quello dell'acqua sporca è di 0,7 litri e quello dell'acqua pulita è di ben 0,8 litri, siamo prossimi al litro. Superiormente c'è il tipico display di Tineco con il quale si possono tenere sotto controllo tutte le funzionalità attorno al display è presente un led che cambierà colore in base alla quantità di sporco che il sensore iLoop rileva sul pavimento. Le modalità di funzionamento di questo prodotto sono le solite due c'è la modalità automatica che è quella che vi consiglio di utilizzare che sfrutta il sensore iLoop eccetera 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 poi c'è la modalità massima che in un certo senso è molto più potente di quella automatica perché spinge proprio al massimo per tutta la durata del ciclo di pulizia e il punto è che in questo modo non solo si scarica più velocemente la batteria ma si consumerà più velocemente l'acqua nei serbatoi c'è da dire però che con questi serbatoi più grandi non c'è veramente alcun problema non capita come negli altri modelli che nel corso della pulizia del pavimento bisogna svuotare quello dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita qui veramente si può andare avanti che è una meraviglia per quanto riguarda invece la batteria nella modalità automatica la batteria di questa S5 è in grado di garantire un ciclo di pulizia di circa 30-35 minuti nei quali raramente bisognerà svuotare i contenitori quindi è veramente un ottimo traguardo il prezzo della Tineco Flower One S5 è di 529 euro su Amazon ma fino al 5 dicembre tramite il link e il coupon che trovate in descrizione la potrete acquistare con un super sconto ragazzi quindi sarà in sconto per un periodo leggermente superiore alla durata del Black Friday e adesso si parla di S5 Combo voi direte che cos'è questa S5 Combo? in realtà non l'abbiamo ancora recensita arriverà la recensione a brevissimo perché si tratta di un prodotto nuovissimo e che cos'è? è una S5 però modificata nella struttura perché diciamo che questa tipologia di scopa elettriche ha la limitazione di poter essere utilizzata solo per pulire il pavimento con la S5 Combo la parte centrale della struttura si smonta praticamente e si trasforma in una sorta di aspirapolvere portatile che può essere utilizzato con degli accessori che sono inclusi in confezione i serbatoi sono sempre due c'è quello dell'acqua pulita e c'è quello dell'acqua sporca ma verranno utilizzati solo per lavare il pavimento sostanzialmente concetto e funzionalità dell'S5 Combo sono praticamente identiche a quella tradizionale ma con questo modello quelli di Tineco sono riusciti a risolvere proprio il problema della dinamicità di questa tipologia di dispositivi praticamente grazie a due accessori che vengono montati ad un meccanismo che si smonta dalla parte centrale come vi dicevo questo modello può essere trasformato in un vero e proprio aspirapolvere portatile si stacca la parte superiore proprio quella dove c'è il motore alla quale va attaccato un accessorio che integra un filtro EPA davanti al quale poi si possono inserire altri due accessori che escono sempre in confezione data la sua natura 2 in 1 in realtà i contenitori dell'acqua sono leggermente più piccoli quello dell'acqua sporca è da 0,45 litri mentre quello dell'acqua pulita è da 0,5 litri anche questo modello integra nella parte superiore del corpo principale un display sul quale si possono vedere tutte le informazioni relative alla batteria alla modalità di funzionamento del prodotto eccetera e anche questo modello integra il Wi-Fi con il quale si connette alla solita applicazione di Tineco la batteria è nella media diciamo che con questo prodotto nella modalità automatica si può arrivare fino a circa 30 minuti di funzionamento il che non è niente male il prezzo del Tineco Flow One S5 Combo è di 449 euro su Amazon ma sempre fino al 5 dicembre tramite il coupon che trovate in descrizione lo potete acquistare con uno sconto molto molto interessante e quindi ragazzi questo è quanto questi sono i prodotti di Tineco che ci sono più piaciuti in tutto quest'anno questi sono i prodotti di Tineco che potete acquistare in sconto già da adesso sfruttando le promozioni del Black Friday quindi se vi serve una roba del genere ora è il momento di acquistarla se avete qualcosa da chiederci scrivetecelo nei commenti se volete vedere le recensioni di tutti questi prodotti le trovate nel canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella io sono Dario Caliendo ci vediamo al prossimo video su Giz se a Frenchi smette di abbaiare perché a breve farò un camicidio ci vediamo al prossimo video su Giz